ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio su rise of kingdoms siamo arrivati finalmente al sesto giorno del kvk attualmente la situazione è un po' una situazione di stallo perché non c'è niente da fare se non qualche evento che esce così giornalmente e se non quell'evento per quanto riguarda la ricostruzione della fortezza crociata più di quello non c'è praticamente niente da da fare ok non è non è niente di niente di nuovo ci siamo praticamente un po' bloccati se così possiamo dire perché proprio non c'è effettivamente nulla da fare però non perdetevi d'animo perché tra pochissimo inizierà poi anche la guerra e tra pochissimo intendo nel circa un giorno un giorno e mezzo inizierà anche la guerra quindi rimanete aggiornati che ce ne saranno delle belle allora come potete vedere siamo arrivati al punto che tra 18 ore e 42 minuti finisce questo parte del monumento dovevamo sconfiggere 100 forti barbari di livello 6 o più naturalmente livello 6 comunque il massimo e ci dà come premi 500 gemme una chiave d'oro e l'apertura dei passi di livello 4 che per chi non se lo ricorda adesso ve lo faccio vedere qual è è questo qui questo ok che lo conquisterà i ha principalmente e poi lo prenderemo anche noi insomma per passare avanti e indietro comunque a parte questo e come bonus come premi da 700 gemme un po di onore alleanze al regno qualche acceleratore e un teletrasporto territoriale comunque qui ci sarà poi la guerra qui dentro contro il 69 che ci è riuscito oggi tra virgolette finalmente per loro ma per sfortuna per noi apprende che è la fortezza crociata in ogni caso non saranno abbastanza pronti da poter finire l'evento con il 30% di attacco bonus per quanto arriverà comunque la guerra almeno per i primi giorni qui dentro molto probabilmente non ce la faranno perché queste qui sono le rovine che sono quello che ti dà più punti onore individuale barra alleanza in minor tempo possibile infatti come possiamo vedere 40 al minuto calcolate che 40 al minuto per un'ora vuol dire 40 per 60 sono un bel po di onore individuale ok calcolate 6x4 fa 6, 12, 18, 24 sono 2400 onore individuale ok quindi non è non è pochissimo 2400 di onore individuale ho detto i conti giusti 60 per 40 si di certo non sono 24000 onore sono 2400 di onore individuale quindi non è non è malissimo è un bel po di meno per quanto riguarda l'onore dell'alleanza però a persone non è per alleanza quindi è veramente tanto ogni persona che c'è dentro che lo occupa da quel quantitativo quindi se ci sono 130 persone per l'alleanza vuol dire che ti dà questo bonus per 130 ok spero che sia chiaro questa è una zona praticamente di guerra perché ci possiamo entrare noi e il 69 quindi se il 69 viene qua ci sarà della guerra praticamente tutta ammucchiata qui nelle rovine antiche proprio perché purtroppo c'è la guerra in questa zona qui mi pare che nei kvk vecchi gli 1 e kvk 1 vecchi se non ricordo male c'erano le rovine antiche che hanno una zona safe nel senso che tu potevi andarci e nessuno poteva attaccarti se non ricordo male mentre in questo caso comunque la cosa non è fattibile dopodiché una volta che insomma si aprirà questa ambaradamme qua finirà anche questo evento e vedete la tua alleanza ha controllato un passo di livello 4 alla fine del capitolo cosa che noi naturalmente non potremo fare perché lo prenderà IA questo premio qua e dopodiché si apriranno le rovine antiche e quindi è una cosa abbastanza rapida le tue truppe hanno sconfitto 3 cacciatori i cacciatori si trovano nelle rovine antiche questo è molto importante e spavolano mi pare alla fine tipo adesso non ricordo quando e ogni totti di tempo adesso non ricordo precisamente quanto mi raccomando sconfiggeteli tutti e tre perché vi danno due giorni di acceleratore raga non è poco una volta finito questo si apriranno anche i passi di livello 5 invece qui i premi li prenderemo noi di GH perché ci siamo praticamente collegati noi in modo abbastanza semplice e qui invece i premi saranno 800 gemme 20.000 all'ora individuale scusate alleanze al regno 30x30 di minuti teletrasporto e chiave d'oro e dopodiché qui inizierà poi la vera costruzione maggiore del territorio perché qui avremmo da fare un percorso veramente enorme non sarà per niente facile ci saranno più o meno secondo me ci vorranno quasi 60 bandiere per costruire tutti e tre per collegare tutti e tre gli cerchi però vediamo un po' cosa fare attualmente qui non costruiremo più niente fino all'apertura del passo di livello 5 almeno che non saremo proprio stracolmi di risorse altrimenti non costruiremo più niente accumulerò tantissimo cristallo perché mi servirà per costruire il tekitoki in zona 5 altrimenti ho paura di non farcela purtroppo dovremmo costruire veramente tanto e non posso permettermi di mettermi a costruire bandiere tra virgolette inutili diciamo che magari usare 10-15 bandiere qua per andarmi a prendere 3, 4 o 5 cristalli quindi di una produzione di 2000-3000 in più non vale la pena perché andrei a sprecare oltre 100.000 cristalli che con 3.000 in più l'ora prima che li recuperi ci vuole praticamente una giornata che effettivamente non è tantissimo devo dirvi la verità però andrei a sprecare quelle 10-15 bandiere che aumenterebbero ulteriormente il prezzo in cristalli delle altre bandiere che attualmente è già salita a 24.000 e non è pochissimo quindi per costruire una bandiera mi ci vuole più di un'ora perché attualmente ne produco 15.000 quindi tra poco il prezzo salirà anzi siamo quasi praticamente a 30.000 quindi ci vogliono due ore per costruire una bandiera quindi ogni due ore posso costruire una bandiera e a parte questo villaggio invariato dall'ultimo video non è praticamente cambiato niente ho fatto giusto una ricerca in più ho avviato adesso l'acciaio di damasca al 4 mi ha finito il campeggio al 2 quindi ho qualche buff ancora in più più forte niente di che risorse si va a farmare avanti questo evento della ricostruzione il primo è quasi finito nel prossimo video che vedrete probabilmente vedrete che apro le casse e non so se sinceramente lo farò finire perché tanto adesso tra poco andrò a dormire e domani mattina quando mi sveglierò questo evento sarà praticamente finito quindi cioè nel senso finito nel senso che l'avranno sicuramente completato mi sveglierò che avremo un buff di tutto il danno del più 40% che è ottimo detto questo ragazzi non ho nient'altro da dirvi spero che il video vi sia piaciuto più che piaciuto comunque spero che vi sia interessato l'aggiornamento del giorno 6 ho caricato anche su youtube tutta la live che ho fatto per quanto riguarda la conquista della Fortezza Crociata ho caricato direttamente la live che ho fatto prima perché non ci ho fatto un video a riguardo però ci ho caricato direttamente tutta la live naturalmente se non volete guardarla tutta saltate i pezzi magari andate a vedere anche direttamente la costruzione la latta cottura che è abbastanza tranquilla devo dirvi la vita fino ad andare tutto abbastanza bene anche se ero veramente preoccupato perché scusate ero veramente preoccupato detto questo ragazzi spero il video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto naturalmente iscrivetevi al canale venite a seguirmi live su twitch e lasciate un commento mi piace e noi ci vediamo in un prossimo episodio ciao ciao